Giovedì 13 febbraio 2020, 44esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La chiesa ricorda Santa Maura. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maura. Il nome deriva dal latino Maurus e significa abitante della Mauritania, ossia persona dalla pelle scura. Maura è una persona molto sensibile e riservata. Ama gli animali e predilige una vita a stretto contatto con la natura. Accadde oggi. Il 13 febbraio del 1894, Auguste e Louis Lumière brevettano il cinematografo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 13 febbraio, ricordiamo il musicista inglese Peter Gabriel e il cantante Robbie Williams. La citazione del giorno. La ragione non merita veramente di chiamarsi con questo nome, se non il giorno in cui comincia a dubitare di se stessa. Arturo Graff. Dice il saggio. Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Il bel paese. Avete mai visitato una miniera dall'interno? Alla miniera di Predoi, in Trentino Alto Adige, potete farlo a bordo di un trenino. La miniera di rame di Predoi ha conosciuto il suo periodo di massimo sviluppo 600 anni fa. Le gallerie scavate allora a mano, nella roccia, utilizzando utensili molto semplici, sono veri e propri capolavori di abilità mineraria. Oggi si può entrare nel cuore della miniera a bordo di un trenino, con il quale si percorrono i primi 940 metri. La visita guidata prosegue poi a piedi lungo diverse gallerie su due livelli, per circa 360 metri.